buongiorno buongiorno a tutti ben arrivati allora che cosa volevo vedere con voi oggi visto che arriva il caldo arriva l'umidità e quindi decorare diventa abbastanza difficile allora mi è venuto in mente come ho visto l'altro giorno una torta molto 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 carina dico la verità volevo vedere con voi oggi come realizzare una semplicissima decorazione effetto vetrata vetrata artistica in maniera veramente molto 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 semplice utilizzando che cosa ghiaccia reale che fortunatamente al contrario della pasta di zucchero col caldo tende ad asciugare molto velocemente e colori colori liquidi nello specifico ovviamente ho utilizzato i nostri colori a base alcol ciao chiara un bacio i nostri colori per aerografo a base alcol perché perché come vi ho sempre detto i colori aerografo a base alcol mi danno un bellissimo effetto stile acquarello nel senso che sono coprenti ma quando li utilizziamo a pennello possiamo gestire in maniera più semplice quella che è la sfumatura cosa che invece con le tempere diventa un pochino più complesso perché le tempere sono molto coprenti quindi andare a creare le sfumature con le tempere è un pochino più laborioso siccome appunto col caldo vogliamo velocizzare al massimo i tempi di lavorazione ho pensato di utilizzare i colori a base alcol per aerografo direi che vi posso girare con i nostri colori per per aerografo in questo caso io ho utilizzato il marrone a pennello vado a riprendere i contorni e questo per avere un insomma una linea guida in fase di lavoro dopodiché che cosa prendiamo prendiamo la ghiaccia reale colorata di di nero io in questo caso ho utilizzato un beccuccio della sac à poche misura 1 mentre nell'esempio che vi avevo postato poco fa su facebook avevo utilizzato un beccuccio 2 ma mi è sembrato un pochino troppo spesso quindi con il appunto con il beccuccio del con la sac à poche la ghiaccia reale nera andiamo a farci tutti i contorni del disegno ovviamente questa tecnica è una tecnica che si presta sia alla decorazione di una torta intera sia alla decorazione di biscotti ok essendo che vogliamo ricreare appunto un effetto di decorazione di vetrata artistica non è assolutamente necessario muoverci in maniera estremamente precisa mi spiego queste vetrate mi auguro di non dire delle sciocchezze ma sono abbastanza certa di quello che vi sto per dire derivano dal fatto che i vari pezzi di vetro colorati vengono uniti attraverso la saldatura di non so se è piombo o metallo che cos'è questo che cosa comporta che non è detto che siano precisamente cioè che vengano precise queste saldature ok in alcuni punti sono un po più spesse in altre sono un po più sottili questo ovviamente facilita chi magari con la ghiaccia reale è un pochino più alle prime armi l'opzione 2 è anche quella di prima colorare e poi andare a ripassare diciamo così con il nero ok ma io mi trovo meglio a fare così ma voi potete ovviamente prima disegnare e poi andare a rifare i bordi quindi è abbastanza indifferente è chiaro che facendo come sto facendo io dobbiamo dare alla ghiaccia qualche minuto in più per asciugarsi ok ok qua sono andata oltre ma lo riprendiamo dopo vedete com'è che mi muovo punto la ghiaccia alzo il beccuccio e con una leggera pressione creo praticamente un filo di ghiaccia che vado poi a far combaciare con il disegno che ho sotto io ok quindi riprendiamo mi appoggio alzo e delicatamente comincio a spingere dopodiché smetto e appoggio e faccio aderire la ghiaccia di nuovo appoggio alzo e schiaccio smetto di schiacciare e faccio aderire la ghiaccia ok stesso discorso quindi mi appoggio mi appoggio mi alzo vedete che si crea il filo e scendo giù ok di nuovo alzo ok e scendo anche qua ovviamente la ghiaccia l'abbiamo colorata con le nostre tempera alimentari ok finito basta ci siamo adesso che abbiamo fatto la diciamo la base dobbiamo andare a colorare ok 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 ok